Finalista regionale con il titolo prestigioso di Miss Catania è la numero 13 Ludovic Ambarino Ed ecco la consegna della fascia al contrario, mettiamola la fascia di Miss Catania per Ludovic Ecco qui la consegna del gioiello da parte di Miluna, un grande applauso a tutte le ragazze che non abbiamo premiato questa sera Un bocca al lupo per loro per le prossime due tappe, speriamo di poterle premiare nelle prossime due tappe Perché in tante se lo meritano e quindi ci saranno altre due occasioni per loro La consegna del premio Miluna, ecco qui la foto con Giuseppe Straci della gioielleria Amosumarra Qui a Catania in via Etnea e poi andremo all'incoronazione ufficiale La regia si prepara a seguire lo stacchetto, può andare con la sigla finale Con l'incoronazione della loro responsabile Adesso, grazie, grazie regia Con l'incoronazione da parte del patron, salvo consiglio Miss Catania e lei, Ludovica Ambarino L'applauso di tutte le ragazze partecipanti Del pubblico della gioiella Io su questo applauso, sulle foto per Miss Catania e Ludovica Ambarino Ringrazio tutte le ragazze